Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video e finalmente faccio un nuovo video dopo un mese e mezzo anche due Ragazzi è perchè non sono riuscito a capire perchè ma non fa niente Adesso giocheremo a Minecraft Ho deciso di portartelo Di portarvelo Così Ok Possiamo cominciare E siamo qua Andiamo a vedere cosa c'è C'è tutto e di più Questa qua Questo qua Questo qua Questo qua Questo qua Questo qua, questo qua, questo qua, questo qua, questo qua, 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 qua e qua. Aspetta tutto, allora. Ok. Ok, raga, lasciala e il piccone lo usiamo solo in caso di emergenza. Ok, una torcia e due. Ok, va bene, ragazzi. Ok, io direi, i villager! Non ci credo, ho trovato i villager. Io vado a vedere là sopra. Ok. C'è un po' tutti di più. Qua è dove dormirò io, appunto. Direi di uccidere i villager, non so perché. Sono crudele, lo so. Qua ci penseranno anche i villager. Devo stare attento al golem, ragazzi. Ecco, appunto. Vediamo se è cosa succede. Uso l'ascia. E uccido, anche se non si sta sentendo. Ah! Ok. Ok. Uccidiamolo, uccidiamolo, uccidiamolo. Lascia, io l'ho quasi finito. Eh, io, eh... Oddio. Raga, io da... Ok. 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 La casa, io la faccio qua. Anzi, no. Mi faccio tipo un recinto perché ho paura. Dei golem. Dei golem. Qua c'è il letto? Ah. A posto. Mi prendo la porta. Mi prendo la porta. E poi scappo. Ok. 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 Perfetto. E adesso, io tolcio qua. Ok. Ok. Eh, ok. No, non ci credo. No! Ok. Dovevo andare, ma non lo ammetto. Adesso venisce male quel golem. Cavolo. Aspettate. Ok. 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 Io vado. in quale caso sono morto trovato lasciami almeno prendere le mie cose grazie mi sa che oddio ok ok no ok lascia il piccone ok più o meno tutto direi di toglierli ok ok così è a posto mi sa che il golem non ce l'abbia ancora con me non ce l'ha con me ok ragazzi io vado a dormire qua c'è il letto qua c'è il letto non c'è il letto voglio una casa dove c'è il letto io e subito e subito mi sa qua no 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 hai grotta lava non c'è il letto non c'è il letto non voglio mai non ci credo non ci credo raga non ci credo raga no ragazzi vi siete persi di tutto però concludo con l'episodio è bella raga infatti sono morto quasi ah no niente andiamoci almeno a riprendere le nostre cose ragazzi comunque qua nel prossimo episodio useremo un altro mondo bravo